Salve, salve a tutti, sono Wendy, sono Wendy. Siamo di fronte al Teatro Vascello, un teatro dove si è fatta la storia per cercare l'eroe più amato dai bambini, il famigerato Peter Pan. Ma guardate che fortuna, guardate che fortuna abbiamo trovato, signorina, ma lei è una fatina, ah sì scusi, 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 salve, salve, ma lei, lei sembra una fatina, lei non è per caso la famosissima Campanellino, noi stiamo cercando Peter Pan, e sa dirci dov'è? Eh, non ha capito. No, si è stupida. Bene, bene, continuiamo la ricerca, ci inoltriamo nei meandri, nelle viscere di questo storico teatro di Monteverde, il Teatro Vascello. Ma quello, ma quello, signor, ma lei è Capitano Uncino? Ah, sì. Senta, noi stiamo cercando Peter Pan. Oh, cara, sarò qui dal 13 dicembre all'11 gennaio cercando di acciuffarlo al Teatro Vascello, Ah, grazie, sì, grazie, straordinario, penso che potrei, sì, penso che verrò, grazie, volentieri, e ha qualcosa da dire? Sono io, la più cattiva, diabolicamente recitiva. Ma, ma, ma è, è Peter, è, è l'ombra di Peter, ma, ma, è proprio. Eccoci, siamo tornati. Non siamo stati fortunati perché non abbiamo trovato Peter Pan, ma abbiamo intravisto la sua ombra e conosciuto Capitano Uncino e Campanellino. Ora vi aspettiamo al Teatro Vascello dal 13 dicembre all'11 gennaio 2015, qui con noi. Vi aspettiamo. Ciao, ciao, sono Wendy. Ciao, ciao. Ciao, sono Wendy. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie a tutti.